La politica è fatta di uomini, gli uomini fanno quello che possono, qualche volta dovrebbero fare quello che devono. Non usa giri di parole il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, e chiede all'intera classe politica di assumersi le proprie responsabilità. Un monito che arriva nel giorno delle dichiarazioni di Zaia sull'ottantina di immigrati lampedusani in arrivo a Jesolo. Se fossi il sindaco non li accetterei, ha detto il presidente del Veneto. Questa la replica di Moraglia. Capisco i disagi, capisco che certe popolazioni siano sotto una pressione maggiore di altre, però sono convinto che la nostra cultura veneta, oltre ad amare la propria identità, e fa bene ad amare la propria identità, sia anche una cultura capace di accogliere. In occasione della presentazione della giornata mondiale dei migrantes, il prossimo 19 gennaio Santa Messa a Mestre, il patriarca è tornato a parlare di Ius Soli. In passato aveva chiesto con forza di non ideologizzare la questione, appello rimasto inascoltato. Lo scontro politico si è già fatto aspro e con le prossime elezioni rischia di essere un tema caldo della campagna elettorale. Il rischio è di politicizzare uno scontro dove poi alla fine chi paga sono delle persone e sono delle persone fragili.